ho cadenzato a Do, tendo a pensarlo qua in Do per andare a Fa sarebbe Do7 Do7 si fa così questa è una delle prime forme che impariamo sulla chitarra se io metto il basso in Sol diventa con il Sol al basso però John Bosco mette Sol bemole al basso che è il Sub5 qui per me è indifferente poi aggiungo questa informazione alla risposta di chitarra 08 non so come ti chiami però mi piace il nome chitarra già mi piace è indifferente pensarlo a Do7 Do7 col basso e Sol bemole Sol bemole settima undicesima diesis o sarà l'undicesima diesis di Do al basso quindi un Do7 con l'undicesima diesis al basso cioè è sempre lo stesso accordo è un Sub5 in questo caso che scende qua tutte le versioni dello stesso accordo quindi in quel senso lì vale la pena conoscere entrambi separarli bene entrambi però pensarli come una cosa unica non 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 non